La Giamanco Design nasce tre anni fa da una specifica esigenza di un'altra nostra società operante nel settore edile, cioè la possibilità di poter personalizzare gli ambienti. Nascono così le tre principali applicazioni, il mosaico in resina, la carta da parati e le decorazioni in stampa UV. Da subito Roland si è rivelato un partner ideale e affidabile per trasformare le nostre idee in prodotti di successo. Grazie a questa collaborazione i nostri prodotti sono apprezzati sia in Italia che all'estero. Il team Giamanco è composto da grafici e tecnici altamente specializzati e può contare sulla preziosa collaborazione di professionisti come architetti, interior design e stilisti che ogni giorno ricorrono alla Giamanco e alle soluzioni Roland DG che proponiamo per dare sfogo alla loro creatività. Plotter per la stampa e la stampa e taglio consentono una vasta possibilità di applicazioni e garantiscono la soddisfazione di qualsiasi tipo di richiesta da parte dei creativi. Grazie alle periferiche per la stampa UV possiamo personalizzare ogni grafica con effetti, rilievo, gloss e texture. L'ultima nostra creazione è lo stand per la Maison Objet di Parigi, dove in pochi metri quadri riusciamo a racchiudere le tre tecnologie, stampa UV, mosaico in resina e carte da parati. Avere accanto un partner come la Roland DG significa poter contare sulla possibilità di una continua innovazione indispensabile per nutrire la nostra creatività e quindi poter far crescere progressivamente il nostro business. Sono Nicola Rubino, General Manager Giamanco Design e credo nella creatività. Grazie a tutti.